ciao ragazzi e bentornati nel mio canale allora sto sempre registrando lo stesso giorno anche se mi sono cambiata mi sono messo il pigiango che non mi sento bene anche se devo dire che mi sento meglio perché sono andata a mangiare quindi sto meglio preso una camomilla calda quindi sto meglio va meglio una bella dormita è quello che ci vuole dunque ho deciso di fare questo video in realtà è da un po' che ci stavo pensando perché perché domani è sabato e quindi esce come avete potuto induire anche dal titolo un nuovo film ambientato nel mondo umano e quindi ve ne volevo parlare allora non si sa molto di quello che succederà io ho soltanto visto che diciamo che le ragazze umane vengono catapultate nel mondo magico poi so che ci sarà tanta musica so che sarà comunque una puntata in cui sarà ambientato diciamo più che altro al mare pur se si tratta diciamo della primavera anche se non so che è un modo di dire oppure se veramente primavera lì cioè non lo so se il titolo dice così dicono così però non so se la festa che si chiama in questo modo oppure se veramente fatto sta che io non vedo l'ora di domani e conto di fare una diretta con voi una diretta la voglio fare perché più che altro perché voglio registrare cioè le mie reazioni cioè nel senso che pure per me sarà una novità quindi ho deciso di fare questa diretta non so come verrà perché la prima volta che faccio una vera diretta dico la verità infatti questi giorni mi sono esercitata molto però poi le ho eliminate perché erano soltanto degli esercizi però domani voglio fare una diretta e io penso e spero che che sia un bel film un bel episodio perché perché dalla trama di base che abbiamo visto degli spezzoni e tutto sembra un bel film però dobbiamo aspettare domani per quello che ho capito verrà trasmesso sembra al solito canale ma anche ammesso che non dovrebbe essere trasmesso in televisione ma sarà diciamo pubblicato da come faccio a spiegarmi da canali appositi diciamo così un po come come quegli spezzoni brevi che trovate farà lo stesso comunque aspettiamo domani e veniamo muovi saluto ragazzi anche perché ho bisogno di riposo e ci rivediamo spero domani con la diretta ciao ragazzi